Bene, siamo qui live, benvenuti a tutti a questo nuovo video e ragazzi oggi un altro argomento che fa un po' diciamo il proseguio, è il proseguimento diciamola così che è più facile del video precedente e la ricchezza è ciò che non spendi, la ricchezza è ciò che non vedi. Questa per me è una grandissima lezione in realtà che mia madre ha cercato di inculcarmi in testa per tanto 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 tempo e ciò ho iniziato a riflettere di più vedendo una scena del film L'Avvocato del Diavolo in italiano con Keanu Reeves e Al Pacino, film bellissimo se non l'avete visto lo dovete assolutamente guardare, in cui c'è una frase che dice Al Pacino che vabbè non vi voglio far spoiler perché potrebbe esserci qualcuno di voi che non l'ha visto ma insomma è un personaggio forte, potente, ricco che praticamente può avere tutto quello che vuole e che dice a un certo punto per spostarsi prendono la metro e lui dice nella metropolitana perché vedi io sono colui che non ti aspetti, non mi classifichi come una persona potente, ricca perché sono vestito normalmente come un qualsiasi lavoratore, prendo la metropolitana per spostarmi. Questa cosa mi ha fatto un sacco riflettere. Ne parliamo oggi ragazzi, ne parliamo oggi con voi, portiamo come al solito perché qui non parliamo solo di argomenti, qui parliamo di vite vissute, quali? La mia e la vostra. Portiamo le nostre esperienze perché secondo me questa è la cosa che più ci può far crescere, no? Perché vedete di questi concetti si può parlare tantissimo, ci sono già tanti video su YouTube, ma secondo me la nostra vera forza e potenza è quella di portare la realtà, portare le difficoltà, portare i dubbi, portare quello che ogni giorno affrontiamo. Io lo faccio portandovi la mia vita, le mie esperienze passate, voi lo fate qui in chat portandomi le vostre, io le leggo, leggo le vostre domande, leggo le vostre esperienze. Quindi siate anche voi generosi nel donare i vostri punti di vista, nel donare i vostri percorsi di vita perché non vergognatevi mai degli errori che avete compiuto, perché anzi a volte sapete anche sbatterseli in faccia e dirgli davanti ad una platea i propri errori serve ancora di più a creare quella robustezza che ci permetterà di non di nuovo commettere quegli errori. Quindi partiamo con i saluti ragazzi. Ciao Franco, ciao Daniele, ciao Andrea, ciao Ivan, ciao Buona, ciao Marco, ciao La M, Cristian, ciao Fernando, ciao Ruggero e ciao Giorgio. Bene, oggi ragazzi, Franco dice subito, bellissimo film, Chiano rifiutò il suo compenso per far partecipare Al Pacino. Ah, cavolo Franco, non lo sapevo, wow, incredibile. Tra l'altro fu una mossa di una genialità mostruosa viste i risultati poi del film, quella parte fatta fare ad un altro attore non avrebbe reso quanto con Al Pacino, a meno che non ci mettevi uno del calibro di Al Pacino e non ce ne sono tanti di attori del calibro di Al Pacino. Veramente film magnifico. Ciao Latinxau, ciao Francesco da Castellammare. Oh, Castellammare? Castellammare Sicilia o Castellammare Campania, Napoli? Chi sai, Gianni Morandi che saluta? Io saluto sempre, perché sono Gianni Morandi, che sono Gianni Morandi saluta. Gli altri sono maleducati, siamo una community, siamo praticamente amici, ci vediamo qua tutti i giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì della settimana, mi sembra il minimo, quando voi incontrate degli amici perché vi vedete ad un appuntamento che fate, li salutate, quindi perché diavolo non dovrei salutare, poi se lo fa anche Gianni Morandi, è solo segno di grande educazione, vi direi. Ciao da Rimini, bene Francesco, ah Castellammare del Golfo, quindi Castellammare del Golfo, Sicilia, dove mi sono sposato, io mi sono sposato a Scopello, l'anno scorso proprio, tra l'altro tra pochi giorni faremo il nostro primo anniversario di matrimonio, stavamo riflettendo se andare, siamo invitati ad un matrimonio in Puglia e quindi quest'anno ci faremo un po' di Puglia, eh, facciamo un viaggio diverso in Italia, finalmente, paese magnifico. E quanti, quanti dalla Sicilia, ciao Luca da Palermo, Francesco dice ti aspetto quest'estate, non credo appunto di riuscire a tornare, lo dicevamo con Viviana di voler tornare, ma non ci riusciamo purtroppo. E, ma ci torneremo molto, molto, molto presto, forse, magari non a giugno, ma magari già quest'estate, eh, staremo a vedere. Bene, allora ragazzi, beh, direi di cominciare a questo punto e poi vi do un po' io il riscaldamento, io faccio sempre così, da icebreaker, come dicono gli americani, no? Io rompo il ghiaccio, però ricordatevi sempre che io non sto qui da solo, siamo qui insieme, quindi è, ehm, non siate, non siate così avidi di pigiare i tasti sul, sulla tastiera e cominciate già un po' a condividere, il concetto lo avete, ehm, lo avete, eh, lo avete fatto, lo avete detto. Scusate ragazzi, mi sono distratto. Matteo dice, attenzione al verme cane in Puglia. Di cosa parli, Matteo? C'è qualcosa che debba sapere della Puglia che non so? Antonio dice, Marco, li seguo da poco, ormai ho anche l'appuntamento delle tue live su Calendar. E per questo, eh, ragazzi, essere, il bello di essere una community, che alla fine siamo un gruppo di persone che si vedono costantemente perché condividono lo stesso obiettivo. Luca, si parla di frugalità? Sì e no, perché io ho il concetto di minimalismo e frugalità, non, non sono troppo vicino, soprattutto se questo poi deve essere una privazione, se deve essere vissuto come una privazione, io sono un po' contrario, ragazzi, perché la vita è una e la vita dobbiamo anche godercela e goderci i piaceri che la vita ci può dare, il problema è che siamo un po' programmati male, no? E a volte, lo dicevamo con Alessio, lo dicevamo, scusate, con Valerio Rosso, che qualche diretta fa, che a volte confondiamo il piacere con la felicità e sono due cose diverse, perché il piacere si può comprare, la felicità difficilmente si può comprare, no? Sting comincia subito, ciao Marco, a 33 anni è troppo tardi per investire? No, non è mai troppo tardi, anche perché qual è l'alternativa? Ti faccio una controdomanda, Sting, qual è l'alternativa? Continuare a non gestire i tuoi risparmi? No, non può essere, quindi ti sei a 33 anni reso conto di alcune cose, non c'è problema, comincia. Come si dice sempre, il momento migliore per cominciare era ieri, ieri è passato, il momento migliore per cominciare è oggi. Funziona così. Sono vuracissimi e carnivori, ne hanno parlato oggi vari giornali. Matteo dice, una nuova specie aliena. Ragazzi, ma, cioè, mi state prendendo in giro, mi devo preoccupare di qualcosa che non conosco e che non ho letto. Ah no, c'è Giovanni che continua a scrivere. Noti anche come i vermi del fuoco hanno delle, nelle setole, tossine orticanti che generano edemi, pruriti e febbri. Negli ultimi due o tre anni, le ondate di calore estive li hanno fatti moltiplicare enormemente nei mali di Sicilia, Puglia e Calabria. Ah, vabbè, sarò attento. Stanno nell'acqua, mi pare di capire, Giovanni? Sarò attento. Marco dice, se tutti fossero frugali, fallirebbe il sistema. No, è qui che ti sbagli, caro Marco. Io non credo proprio che fallirebbe il sistema. Lo sai perché? Perché il sistema economico è dinamico. Il sistema economico è flessibile. E quindi, semplicemente, il sistema economico cambierebbe. Perché? Perché cambierebbe la nostra domanda. Cambierebbe la nostra modalità di spesa. Cambierebbero le nostre abitudini di spesa. Punto. Ma il sistema, si dovrebbe semplicemente, ci sarà un reset in questo caso, ma ripeto Marco, prima che tutti quanti possano diventare frugali, passerebbe così tanto tempo che forse probabilmente noi per l'età che abbiamo nemmeno lo vedremo questo cambiamento. Ok? Nuovo un piffero esiste da sempre. Basta andare dietro ai sensazionalismi. Antonio dice, io sono di Lecce e non ho mai sentito parlare. Vabbè, dai ragazzi, non è che non parto in Puglia perché ci sta qualcosa. Ricordatevi sempre, ragazzi, che i giornali e i telegiornali devono trovare notizie e renderle sensazionalistiche e mega paurose per catturare la nostra attenzione. Quindi una cosa che ho imparato, e l'ho imparato nel mondo della finanza, pensate, dal mondo della finanza, dove bisogna strillare ancora di più per farsi ascoltare, non vi fidate mai di quello che vi viene detto, nemmeno da qui su YouTube, nemmeno da me. Andate sempre ad indagare, soprattutto quando quello che vi viene detto non è supportato da dati. Questa è una cosa che in finanza e in economia ho imparato. Perché a volte ho letto degli articoli splendidi, bellissimi, anche di testate giornalistiche, scritte da penne, da giornalisti con un pedigree mostruoso e molto piacevoli nella lettura. Ma poi ho scoperto che erano estremamente faziosi, erano estremamente soggettivi, erano estremamente, dipingevano quella che era la loro realtà del dato, dei dati, filtrata da o quello che dovevano dire o quello che volevano dire. Quindi impariamo sempre a, parliamo di, parliamo sempre di statistiche, la matematica e la statistica sono due materie che non mentono, ok? Ok, allora ragazzi, direi di Giassi De Caldi, lo vedo. Giovanni dice, quest'estate ci sarò anche io in Puglia, mal che vada ci ricovereranno insieme. Eh sì, male che vada, ci riposeremo un po', beh, del resto, ragazzi, ci si riposa anche in quel modo, no? Esatto, Giovanni dice, sono d'accordo, il famoso business della paura, sì, il business della paura anche in finanza, no? In finanza, se ci avete fatto caso, che tutti cercano di mettervi paura, tutti ci vogliono mettere paura, riguardo i nostri risparmi, riguardo le nostre modalità di investimento. A me è proprio, è proprio una leva marketing che dà fastidio, ma se voglio, io non sono contrario, vedete, a insegnare tecniche, a, del resto, attraverso la scrittura dei libri, attraverso informazioni che si può passare conoscenza, giusto? Ma non capisco perché per farlo bisogna giocare e azionare delle leve, le leve del terrore, no? Perché ti devo mettere la paura? Se non fai quello che sto facendo io, quello che ti insegnerò nel mio libro, nel mio corso, perderai tutto. Se stai perdendo soldi nel mondo della finanza, è perché non fai quello che ti insegno io. Ma perché bisogna usare queste leve beceri? Perché bisogna mettere paura alla gente? Se io ho un sistema, se io ho una metodologia che voglio condividere, perché invece di parlarvi della paura e mettervi paura di quello che state facendo, di quello che sapete o non sapete, perché devo invece, perché invece di concentrarmi sulla paura non mi concentro sui vantaggi? Cioè, quello che ti andrò ad insegnare, come quello che ti andrò ad insegnare, come quello che imparerai da un libro, può aiutarti nell'avere una freccia in più al tuo arco? Non so, non ho mai capito questa cosa, cioè, capisco perché si vende, la paura vende, è facile, no? Però non capisco perché la gente ci caschi. È veramente una cosa che non, dopo tanti anni, non riesco a capire. Francesco mi dice, Marco, il webinar di stasera è confermato? Sì, sì, certo, Francesco, alle 19.30, ragazzi, stasera ci sarà un webinar. E parleremo di una cosa interessante, perché vi farò vedere come utilizzo un mio portafoglio, diciamo, messo sopra il mio portafoglio di lungo termine, che si diversifica e mi aiuta un po' a, soprattutto quando magari i mercati scendono un po', e l'azionario scende un po', mi aiuta a diminuire le perdite del mio portafoglio di lungo termine. E lo faccio attraverso gli algoritmi, ok? Quindi attraverso, diciamo, strategie che sono completamente decorrelate ai cicli macroeconomici, e quindi decorrelate all'andamento di asset come l'asset azionario, e oggi parleremo di questo, vi farò vedere un po' di cosette. Fernando dice, a proposito dei libri, quando uscirà il tuo? Il mio libro uscirà, se riesco a consegnare a fine giugno, uscirà a ottobre-novembre di quest'anno. Ragazzi, lo sapete qual è il problema? Considerate che è una settimana che devo chiudere un capitolo, che è uno dei capitoli più importanti, no? Perché è uno dei capitoli in cui parlo, diciamo, del mio processo, ovviamente, il libro è su questo, e parlo del backtesting sui regimi economici, e quindi come nei quattro regimi di espansione economica, riflazione, stagflazione e rallentamento economico, quali sono e perché ci sono asset che si comportano meglio di altri, quali sono i settori e le industrie che si comportano meglio di altri, quindi dov'è che vado a concentrare le mie energie? Insomma, ogni giorno sto capitolo, è una settimana che lo devo chiudere, e ogni volta aggiungo qualcosa non mi riesco a fermare. Quindi, Fernando, spero di riuscire a consegnare, se vado avanti così sarà difficile. Giacomo mi dice, Marco, cosa ne pensi dei prestiti studenteschi? Intendo che ti prestano soldi per poi laurearti, e quando lavori le restituisci. Allora, diciamo che, così, è la prima volta che li sento in Italia, a dire la verità, perché questo invece, e non vorrei che stiano spingendo per fare e creare un modello che sia simile al modello americano. L'istruzione in Italia, soprattutto quella pubblica, che è piuttosto buona, è anche piuttosto economica. Quindi non ho mai sentito che la necessità di far debiti per fare l'università, perché se vai in università pubbliche, credo che sia quella una spesa che la maggior parte di una famiglia si possa, insomma, la maggior parte delle famiglie italiane possa affrontare. E anche le, tutto sommato, anche le università private italiane sono, tra virgolette, economiche, piuttosto economiche, semplicemente comparate ovviamente alle controparti universitarie private negli Stati Uniti, dove si spendono 80, 100, 150 mila dollari l'anno. Ok? Quindi praticamente tu per far studiare tuo figlio tre anni hai lasciato 300, 350 mila dollari sul tavolo, no? E quindi c'è questo enorme debito studentesco. E ragazzi, l'America si sta cercando di ribellare. Ci sono, proprio in questo periodo, ci sono rivolte, ci sono manifestazioni degli studenti che sono stufi di questo sistema, che sono stufi di uscire dall'università con un debito che probabilmente, se va bene, estingueranno nei successivi dieci anni, se riescono a fare la carriera giusta e il lavoro giusto, ma che praticamente li affaccia al mondo adulto, al mondo del lavoro, con già la schiavitù dell'esser debito. E quindi non poter fare tutta una serie di... E soprattutto, perché ragazzi, il debito non ci dà possibilità di opzioni. Il debito, quando siamo indebitati, non possiamo scegliere. Dobbiamo prendere quello che ci arriva. E questo ci rende schiavito. Il debito è una forma di schiavitù. È la forma moderna di schiavitù per quanto mi riguarda il debito. Quindi, Giacomo, non sono troppo d'accordo, semplicemente perché ho in testa il modello americano e mai vorrei che adesso questo modello lo portano pure in Italia per rendere schiavi pure gli italiani su questa cosa. Perché invece noi in Italia siamo molto bravi con il debito. Noi italiani di debito privato ne abbiamo pochissimo. Siamo uno dei paesi con il debito privato più basso. L'unico nostro grande debito che facciamo, tutto sommato, è quello dell'acquisto di una casa. Su quello noi italiani siamo piuttosto fissati, no? Spero che non vogliano introdurre quest'altra forma, ecco, perché sarebbe veramente un peccato. Viceversa, scusami, per quelli che non riescono nemmeno a studiare per ragioni economiche della propria famiglia, è un debito comunque esiguo, perché, ripeto, le università pubbliche che sono molto buone in Italia costano comunque poco. Quindi immagino che un debito, stiamo parlando di qualche migliaia di euro, quindi è anche un debito che finita l'università è entrato nel mondo del lavoro, riesce a restituire in pochi anni. Non è che è una schiavitù che ti porti dietro per 10, 15 o 20 anni, come succede negli Stati Uniti, ok? Allora, ragazzi, vedo che ci sono un po' di domande in ambito finanziario, no? Cosa ne pensi di Salesforce? Uno, ragazzi, queste sono dirette di finanza personale, di questi aspetti più finanziari parliamo nelle dirette di lunedì, mercoledì e venerdì, 13 e 30, ok? Quindi queste domande fatemele in quelle dirette. Detto che, ragazzi, non rispondo a domande del tipo cosa ne pensi di? Secondo te cosa fa X? Perché non c'è risposta intelligente ad una domanda di questo tipo. Quindi, ok? Stesso discorso per Marco, come vedi? L'altro tipo di domanda a cui non rispondo. Intel nel medio termine. Ok? Ok? Andrea giustamente dice se uno tra l'altro ha una buona media all'università, le tasse sono minime. Ci sono anche le borse di studio, no? E quindi ancora meno serve far far debito. E Giacomo dice io intendevo per chi non avesse famiglia che sostiene nello studente. Giacomo, ti rispondo come ti stavo rispondendo prima. Le università pubbliche in Italia costano piuttosto poco. Parliamo di debiti di qualche migliaio di euro. Credo che tre anni all'università in un'università pubblica. Adesso mi ricordo quando andavo io all'università. Quanto può costare? 3.500, 4.000 euro l'anno in un'università pubblica? Tra l'altro, anzi, lasciami dire, se la famiglia ha un reddito molto basso e non si può permettere l'università, probabilmente è ancora meno quell'importo. Quindi, in questo caso non sono contrario, stiamo parlando di debiti molto piccoli, immagino. Giuseppe dice anche se hai una buona media, ma un'ISE superiore ai 20.000 ci vogliono 1.500 euro l'anno di tasse. E sì, era quello che appunto 1.500 per 3 ho fatto detto 4, 4 e 5, quello che dicevo prima, mi ricordavo insomma questa questa cifra. Ehm, allora Marco, il video sul perché in Italia si guadagna poco ce lo hai promesso, lo faremo, non ti preoccupare, volevo fare semplicemente una pausa per non fare un video troppo simile alla diretta precedente, ma ne parliamo sicuramente. Esistono casi in cui far debito conviene per speculare, tipo per avere capitale. Allora Johnny, questo è un rischio enorme, è aggiungere rischio al rischio, cioè far debito, contrarre un debito, andare a prendere soldi in prestito per metterli su un'attività speculativa ad altissimo rischio. Ti direi di evitare come la peste una cosa del genere. Diverso sarebbe far debito per qualcosa che genera una rendita passiva piuttosto sicura, ti faccio un esempio, immagina questa condizione, far prestito in banca a un interesse che è inferiore dall'interesse che ti viene pagato investendo in titoli di Stato, ok? Quindi, tu immagina che prendi 10.000 euro dalla banca. La banca ti chiede un interesse, un tasso di interesse su quei 10.000 euro del 2%, ok? E tu glielo paghi ogni mese. Tu quei 10.000 euro li investi comprando obbligazioni che rendono ovviamente obbligazioni governative di un paese ad alto rating, quindi con un alto credit ratings, alti voti e cioè una bassissima probabilità di finire in di finire in default, fallire e prendendo quei titoli di Stato governativi prendi il 4%, quel differenziale è il tuo guadagno. Questo tra l'altro, lasciami dire, è una tecnica molto utilizzata da banche, istituzioni, hedge fund, eccetera, si chiama carry trade. Per esempio, lo si fa con valute diverse, Ti faccio un esempio classico tra dollari americani e yen giapponesi. Si prende il debito in yen giapponesi perché i tassi di interesse erano negativi fino a qualche tempo fa, quindi gli interessi che si pagano sono bassissimi e si investe in titoli di Stato americani, italiani o di altra natura, di solito lo si fa con l'America, perché? Perché ha uno dei più alti credit score e quel differenziale è il tuo guadagno, quindi fatto in questo modo, se sai quello che stai facendo, potrebbe aver senso, fatto in un modo per speculare sui mercati e fare investimenti di brevissimo termine nella speranza che tu possa guadagnare, ecco, quello è un rischio che non mi metterei mai sulle spalle. No. Allora, allora sto leggendo un po' di domande, Marco, secondo te earn su crypto può essere considerata un'entrata passiva percentuale in stacking sulle stable coin, cosa ne pensi? Penso che non sia sostenibile, penso che abbia un livello di rischio estremamente, estremamente alto, quindi, come al solito, dura finché dura, nel momento in cui finisce tutta la giostra, bisogna stare attenti a non rimanere col cerino acceso in mano. Ragazzi, ricordatevi sempre una cosa, i soldi non vi li regala nessuno. Se c'è un progetto, c'è un'azienda, c'è qualcuno, c'è un'entità che sembra che vi sentite che vi stia regalando i soldi, io mi faccio un miliardo di domande prima di metterci sopra dei soldi. Anzi, vi dico la verità, quello che mi ha insegnato la mia esperienza fatta in vent'anni sui mondi finanziari, cripto compreso, è ogni volta che il mio cervello mi dice sembra troppo bello per essere vero, ne sto alla larga. Lo sapete perché il 99% delle volte è troppo bello per essere vero e infatti non è vero. Sempre sull'università, perché oggi evidentemente c'è questo filone interessante, io al Politecnico di Milano avevo amici che con il reddito basso avevano anche vitto ed alloggio. viene richiesto solo di avere una media alta agli esami. Sapevo anch'io questa cosa, Andrea, non ho detto prima, c'è stato un collega che ha detto no, non è vero perché l'ISE, basta che c'è l'ISE sopra i 20.000 e già paghi 1.500 euro di tasse, anch'io sapevo che addirittura avevi egevolazioni sull'alloggio se eri uno studente fuori sede. Perciò, ragazzi, mettetevi d'accordo, forse le cose, forse lo sapete a volte che cosa facciamo? A volte usiamo un pochino delle scuse, no? Un pochino delle scuse che ci permettono di non affrontare determinati scenari con il giusto impegno semplicemente perché mi è stato detto che ho sentito che qualcuno mi ha detto e poi non abbiamo mai indagato se quelle affermazioni erano vere. Lo sapete che c'è? è che la gente, alla gente piace parlare. Oh, ragazzi, non sapete quanto alla gente piace esprimere le proprie opinioni e la cosa devastante, lo sapete qual è? È che esprime queste opinioni come fossero sentenze, come se di quell'opinione che si sta esprimendo quelle persone sapessero veramente tanto perché hanno studiato quella materia, perché conoscono i dati, conoscono... E invece a volte esprimiamo delle opinioni per sentito dire. Quindi praticamente opinioni su opinioni, opinioni al quadrato. Che validità può avere secondo voi? Non vi fermate a quello che sentite dire, non vi fermate a quello che il cugino dell'amico del cognato del vostro fratello vi ha detto. Ecco, no, non fate questo perché magari la verità è un'altra e vale la pena indagarla. Ve lo dice uno che nel mondo finanziario c'è entrato con due o tre anni di ritardo rispetto a quelli che avrebbe potuto fare, sto parlando di me, Marco Casario, perché mi ero ciecamente fidato dell'esperienza del mio socio lavorativo che aveva avuto una pessima esperienza in ambito finanziario e che aveva perso soldi e mi aveva sempre detto il mondo della finanza è fatto per togliere soldi, sono trappole, non c'è andare perché i soldi si perdono. E invece mi sono fidato il primo anno, mi sono fidato il secondo anno, il terzo anno ho cominciato a dire ma sarà vero perché ho anche altri racconti, ho anche altre esperienze, fammi indagare un po', eccomi qua dopo vent'anni. Ma chi mette da parte denaro però non fa danni economici, il denaro deve respirare, il denaro deve viaggiare, il denaro deve girare, non fermarsi mai, ci dice il nostro collega Trade. è vero, ma questo è il modello economico che hanno costruito per noi. E quindi tu vuoi far parte dell'ingranaggio di questa enorme ruota che hanno costruito per te o vuoi vivere la tua vita con le tue regole e con i tuoi obiettivi? Quella è la domanda. Quello che dici è vero. L'economia, se noi fossimo molto più morigerati, se noi fossimo meno consumisti, se noi fossimo meno spendaccioni e desiderassimo meno cose, beni e servizi che non ci servono a niente, che non aggiungono felicità alla nostra vita, sarebbe un problema per l'economia. Ma l'economia non finirebbe zampa all'aria, dovrebbe semplicemente rimodellarsi ad un nuovo modello. Quindi oggi noi viviamo, spendiamo, desideriamo oggetti, servizi, abbiamo questa idea, questo prototipo della ricchezza, parleremo di questo nel video, che è stata precostruita per noi. Ci hanno, è come se ci avessero installato un software nel cervello, attraverso cosa? Attraverso la pubblicità, ragazzi. E oggi i social, purtroppo, non fanno altro che ancora di più amplificare questo Stato. E quindi ti dico, a me non interessa di danneggiare un'economia in cui non mi trovo, di danneggiare un'economia che non condivido. Io non, non mi sento in colpa di decidere ed essere consapevole delle mie spese, delle mie abitudini, di avere un controllo ferreo delle mie finanze, che va contro quello che ci è stato insegnato, quello che ci è stato installato. Ma sono contento di questo, non mi interessa se creo un danno all'economia, perché questa non è l'economia che ho costruito io, è l'economia che hanno costruito per me. E io non voglio vivere in un contesto che qualcun altro ha progettato per me. Io voglio vivere nel mio contesto. Ecco perché, ragazzi, credo che la parola che ripeto di più nei miei video, e non è un caso, sia consapevolezza. Questo vuol dire consapevole. Essere consapevoli vuol dire che si può anche scegliere di fare degli errori, si può anche scegliere di vivere la vita che ci hanno preimpostato, ma quando lo scegli in maniera consapevole ti prendi pregi e difetti della tua scelta, ti becchi le conseguenze della tua scelta, però lo fai in maniera consapevole. La cosa triste e drammatica è farlo senza essere consapevoli, continuare a percorrere una strada dal punto di vista finanziario che qualcuno ha buttato giù per te. Quella non è la tua strada, è una strada che qualcun altro ha asfaltato per te. Tu la stai solo percorrendo. È più facile, certo, più facile percorrere una strada che qualcuno ha creato per te piuttosto che farti la tua strada dove magari ti serve il macete per tagliare le erbacce che non c'è la terra abbattuta, non c'è l'asfalto battuto, quindi cammini scomodo, caschi, inciampiti, è più difficile, certo, ma quella strada poi porta ad un risultato, ad un obiettivo che è molto più vicino a quello che vuoi veramente te e che quindi ti avvicina di più a serenità, felicità, chiamala come vuoi. Quindi ti invito a riflettere su questo. sempre sull'università Andrea ci scrive io con un ISE altissimo e media del 29 avevo una decurtazione del 90% della retta. Guarda Andrea adesso non c'è Viviana magari di questo ne parliamo un giorno quando invito anche a rifarci una visita Viviana, mia moglie, lei si è laureata con 110 e lode, aveva una media piuttosto alta e anche lei mi ha sempre detto che le tasse universitarie nonostante anche lei avesse un ISE piuttosto alto, padre libero professionista avvocato, lavorava per vari studi eccetera, madre che lavorava eccetera e anche lei mi ha detto che comunque i costi erano molto contenuti, ho fatto un'università pubblica con costi molto contenuti perché aveva una media alta e credo abbia preso anche una borsa di studio per andare all'estero, ha fatto un'esperienza all'estero, a Barcellona con una borsa di studio Matteo dice secondo me per iniziare un percorso di libertà finanziaria bisogna prima trovare la propria verità, la propria strada, la propria realtà, se no è inutile mettere da parte soldi a caso, Matteo però vedi tu ne fai un discorso di propedeuticità, cioè devi fare prima questo per poter far quell'altro, per me quelli sono invece percorsi paralleli, sono percorsi che fai insieme in contemporanea perché a volte non è che tu stai dentro una stanza a braccia incrociate e rifletti su la mia verità, qual è la mia verità? Che risposta ti dai su qual è la tua verità? Forse devi andare a fare un percorso non so spirituale in India per rispondere a questa domanda tutto sommato, no? la propria qual è la tua strada? Queste cose le puoi benissimo capire facendo un percorso anche di gestione delle proprie finanze perché devi rimandarlo e aspettare di aver capito qual è la tua verità? Ti dico la verità lasciami il doppio gioco di parole io non so qual è la mia verità io conosco i miei valori certo conosco i miei obiettivi certo sono cambiati nel tempo certo e non è che mi sono fermato in una stanza a pensarci e sono stato tre mesi fermo per capire le mie verità e per capire i miei i miei obiettivi li ho percorsi li ho cambiati li ho evoluti strada facendo quindi quello che dici è vero ma non è vero nel senso per quanto mi riguarda Matteo attenzione quando dico questo ti parlo io sempre del mio percorso che non è il giusto assoluto è il mio percorso per me ha sempre funzionato il fare l'essere attivo ok l'azione perché i pensieri a volte ci fanno intrappolare io sono una persona che ha bisogno di agire che se pensa troppo alle cose se aspetta che si intrecino le costellazioni che Marte entra in Saturno per poter dico delle scemenze per poter cominciare o aspetto che si crei sul mercato quella situazione e così tanto fa no io devo fare devo iniziare a fare per avere più per mettere meglio a fuoco le cose gli obiettivi quello che posso fare e quello che non posso fare ho bisogno anche di sbagliare a volte perché fare vuol dire sbagliare come c'è il vecchio detto no sbaglia chi non fa no scusate non sbaglia chi non fa è questo il detto ed è vero per scoprire la propria verità è vero per iniziare un percorso di gestione finanziaria di controllo delle proprie finanze ciao Marco è una soglia di patrimonio psicologica che ti farebbe in qualche modo abbassare il tuo profilo di rischio oggi no ti direi per via dell'età più è piccolo il capitale più e se più è piccolo il capitale più sei giovane più puoi diciamo puoi permetterti devi avere le conoscenze per farlo quindi in maniera matematica non farlo così ok non mi far usare una parolaccia puoi alzare un pochino l'asticella del rischio sapendo esattamente quello che stai facendo perché perché con un capitale piccolo puoi fare piccoli danni se sbagli perché in età giovane hai tutto il tempo della vita per recuperare gli errori che hai fatto finanziariamente o dal punto di vista degli investimenti però più cresci e più cresci il capitale il profilo di rischio è inversamente proporzionale perché perché più vuoi proteggerlo il capitale più devi proteggerlo il capitale Marco scusami ti seguo da tanto e da un po' di tempo le tue live sono sempre uguali dici sempre le stesse cose prima non era così Alessio Alessio non credo che quello che tu dica sia vero per quanto mi riguarda perché cerco di apportare invece sempre argomenti diversi gli argomenti del lunedì sono diversi da quelli del martedì che sono diversi da quelli del mercoledì se penso agli ultimi video che ho pubblicato mi viene da dire è vero però questa è la mia percezione io sono molto attento a questo ci presto molta attenzione non pretendo che sia vero in termini assoluti però Alessio ti dico se pensi che stia portando stia dicendo sempre le stesse cose te lo dico da da amico quasi non ci conosciamo ma mi segui da tanto e quindi mi sento di potertelo dire da amico forse i miei video non ti sono più utili forse stai facendo un altro percorso forse devi sentire altre cose quindi ti invito ad ascoltare anche altre cose se ritieni che i miei video siano sempre uguali ti giuro io non mi offendo ragazzi il tempo è prezioso il tempo è l'unica cosa che abbiamo veramente che ci da che dobbiamo è più importante dei soldi quindi non sprecate mai il vostro cercate di diminuire al minimo tutti gli sprechi di tempo e lo dico in maniera controproducente anche per il mio canale se il mio canale i miei contenuti non ti danno quello che cerchi cercalo da un'altra parte ok allora 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 quante domande oggi ragazzi non mi fate iniziare l'argomento che volevo iniziare però è bello anche così Marco buonasera quando hai fatto quel click che ti ha permesso di fare quel salto di qualità e dire ok la finanza entrerà a far parte della mia vita per sempre allora diciamo che ci sono due click per me non è un click il primo click è stato la passione cioè quando finanza e economia sono diventate le mie passioni e sono diventate le mie passioni mano a mano che ho sono stato sempre più curioso di capirle di studiarle più studiavo e più vedevo che se probabilmente fossi rimasto come fanno molti no molti rimangono entrano nel mondo della finanza imparano due cose e rimangono con quelle probabilmente il primo click non sarebbe scattato e quindi c'è stata c'è stato l'appassionarmi a questa materia il voler essere bramoso curioso imparare sempre cose nuove e questa spinta questa motivazione ce l'ho ancora oggi assolutamente ce l'ho ancora oggi il secondo click invece è diverso perché è un click che tocca anche corde di tipo economico finanziarie nel vero senso della parola mano a mano che nel percorso di studio apprendimento pratica nel mondo degli investimenti nel mondo della gestione delle mie finanze mano a mano che aumentava la mia capitalizzazione aumentava il mio tasso di risparmio nel momento in cui avevo sempre più controllo delle mie spese e questo che cosa mi dava sicurezza quando ho percepito quella sicurezza c'è stato il secondo click e c'è stato la scelta di poter dire più a cuor leggero e con più sicurezze economiche finanziarie e di conoscenze perché credo che sia quella la io lo dico sempre se domani dovessi ricominciare da capo dovessi perdere tutto tutto mi suiciderei no assolutamente sarebbe starei male beh sì perché insomma ho costruito in tutti questi anni ho costruito quello che ho costruito dover ricominciare da zero perché ho perso tutto chissà per quale motivo sarebbe faticoso ma non avrei paura di doverlo rifare perché perché mi possono togliere denaro mi possono togliere la casa mi possono togliere l'ufficio le mie attrezzature e tutto ma quello che non possono togliermi è la conoscenza quello che so fare quello che ho costruito in termini di know-how e quindi questo per dirti semplicemente il secondo click è stato un pochino più calcolato io non sono una persona che fa passi più lunghi della gamba no e quindi l'avrei potuto far prima sì l'ho voluto fare quando mi sentivo tranquillo di poterlo fare e quindi quando numeri alla mano avevo la possibilità matematica di farlo ciao Marco ho 20.000 euro in liquidità disponibili purtroppo non ho una conoscenza per poter investire da solo e non ho la testa al momento per poter studiare cosa mi consiglieresti allora quando non hai tempo voglia o qualsiasi altra cosa perché secondo me il dire di non aver tempo è sempre un pochino una scusa che ci mettiamo lo faccio anche io quando mi dicono oggi non ho tempo di andare in palestra oppure cavolo oggi non ho tempo di prepararmi di mangiare bene mi devo mangiare la prima cosa che mi capita mi sto raccontando delle scuse no perché il tempo e l'impiego del tempo è direttamente proporzionale la priorità che mi dai a quella cosa per me gestire i miei risparmi che fa che col sudore metto da parte ha priorità altissima non esiste non aver tempo per quella cosa detto questo quando non c'è conoscenza eccetera le cose più semplici quindi che cosa puoi qual è la cosa più semplice che puoi fare ho fatto un video di come come investire i tuoi soldi quando se non hai nessuna conoscenza di finanza sono due parti ti consiglio di vederlo comunque per riassumere la prima cosa che puoi fare un conto deposito più semplice di quello non c'è niente attualmente ancora ci sono conti deposito che pagano il 4% l'ordo titoli di stato obbligazioni un pizzico più difficile ma di nuovo non devi avere grandi competenze perché si acquistano alle poste in banca eccetera e le emissioni di btp che abbiamo visto in italia o che insomma ci sono in europa pagano tra il 2 il 3% netto in questo momento quindi queste sono le cose più semplici che puoi fare ti aggiungo un grado di difficoltà cominciare a fare un piano di accumulo investendo su un etf diversificato all world e lì non puoi sbagliare investimento di lunghissimo termine un rendimento medio di aspettativa del 5-6% forse qualcosina di più e queste sono le tre cose che puoi fare non ti consigliare di fare altro se non c'hai tempo il tempo intendo da investire in conoscenza nello studio mi dovrei far aiutare da un consulente anche di una banca esempio io ho Mediolanum un family bank che potrebbe darmi qualche idea io non andrei da un consulente io Marco Casario perché quello ricordati sempre che i consulenti che lavorano in banca hanno un conflitto di interessi per definizione perché sono pagati dalla banca e quindi non sempre non tutti non sto dicendo tutti ma spesso si trovano un po' all'angolo per cercare di far contento il cliente e far contenta la banca che ripeto è il suo datore di lavoro quindi se dovessero scegliere se vengono messi all'angolo e devono scegliere tra i due chi scelgono secondo te scelgono di far il bene della banca perché è quella che gli paga lo stipendio quindi non lo farei ci sono altri consulenti privati che quindi non soffrono e non vivono questo conflitto di interessi per definizione però ti ripeto nel vedi a un certo punto della tua vita il tempo per imparare l'abc della gestione finanziaria lo devi trovare non puoi scappare perché altrimenti affidarsi agli altri vuol dire sempre vedete io per come sono fatto io non metterei mai dei soldi in mano ad un'altra persona senza sapere capire quello che sta facendo in questa fase della mia vita lo potrei fare in questa fase della mia vita potrei decidere in maniera consapevole di affidare dei soldi ad un consulente privato affidare dei soldi ad un fondo di investimento ad un hedge fund potrei decidere di farlo non lo faccio perché perché me li gestisco io ma oggi lo potrei fare con più tranquillità perché so saprei esattamente quello che sta facendo saprei esattamente comunicare con lui saprei capire cosa mi sta dicendo non mi potrebbe prendere in giro usando mega paroloni che io non capisco e dire vabbè lo saprà lui l'avrà studiato io non ci capisco niente ecco questo io non ci capisco niente per me è l'ede nuoce la mia serenità questo per me è un mantra nella vita e quindi non metterei i miei risparmi in mano a qualcuno senza poi riuscire a capire e sapere esattamente cosa sta facendo ecco perché ti dico che per come son fatto io non puoi non metterti a un certo punto piano piano con calma studiare l'abc non sto dicendo di diventare un analista finanziario o un consulente finanziario esperto no l'abc l'abc della finanza della finanza personale degli investimenti passivi veramente si impara in qualche mese studiando qualche minuto al giorno insomma è un percorso che possiamo far tutti quindi di nuovo torno a risponderti come all'inizio non ci credo che non hai il tempo di dedicare dieci minuti un quarto d'ora al giorno per i prossimi due tre quattro mesi a quello che è che è la tua vita perché le tue finanze sono anche la tua vita fabio dice dicevi in un video che sei totalmente investito nell'azionario ti confermo è così il mio portafoglio di lungo termine è un portafoglio di crescita è un portafoglio growth investito da sempre quindi stiamo parlando di quasi una decade in azionario non ti preoccupa l'eventuale cigno nero chiamato guerre vedi abbiamo affrontato già tante di guerre nel passato non la guerra non è un meccanismo nuovo per l'economia e per la finanza giusto le abbiamo viste le abbiamo vissute le abbiamo affrontate le abbiamo subite e le abbiamo anche superate quindi non ho paura di quel cigno nero perché posso permettermi dal punto di vista finanziario posso permettermi di affrontarlo quel cigno nero posso permettermi di aspettare di vedere il mio portafoglio di lungo termine scendere del 40 50 60% e aspettare il recupero il recupero ci sarà sicuramente no ho le competenze però per aggiustare il portafoglio nel caso avvenga qualcosa di estremamente grave aggiustare il portafoglio e reagire in maniera attiva al mio portafoglio quindi cambiare dei posizionamenti magari settare il portafoglio in maniera tale che sia più difensivo se accade qualcosa di estremamente grave perciò Fabio vedi quello che ho capito è che non possiamo non posso passare la vita come investitore a preoccuparmi di un evento catastrofico che forse non accadrà mai forse non accadrà mai in vent'anni sono vent'anni che sto sui mercati io non è mai successo nulla di così grave da distruggere il sistema economico finanziario questo è mi dà la garanzia che non succederà nel futuro no non me la dà la garanzia però mi rincuora mi dà supporto morale che l'economia e la finanza sono in grado di l'essere umano in generale come sistema è in grado di far fronte a molti eventi negativi quindi non posso vivere nella paura o crearmi o avere un portafoglio ripeto estremamente difensivo che nel caso di una guerra termonucleare reagirà bene perché perché vuol dire che nel frattempo posso aver perso i rendimenti per 10 15 20 30 anni o per tutta la mia vita e quindi quella per me non è un'alternativa percorribile se dovesse accadere qualcosa del genere sarò reattivo stando tutti i giorni in ambito sulla finanza e seguendo l'economia sarò reattivo e saprò come reagire punto allora Bisogna contestualizzare tutto per il mercato italiano e non per il mercato europeo o americano, perché l'italiano medio non può andare in giro per il mondo a fare una carriera internazionale. Ma Matteo perché hai queste limitazioni, queste sono generalizzazioni enormi, che vuol dire l'italiano medio? Guarda che gli italiani stanno in tutto il mondo, gli italiani hanno fatto enormi migrazioni durante inizio secolo 1900, durante le guerre mondiali, sono andati in giro per il mondo, in America e in altro con le valigie di cartone. Oggi non è più il momento di uscire da un paese, cioè andare in un nuovo paese senza nessuna competenza e con la valigia di cartone, ma dove sta scritto che l'italiano non può fare una carriera internazionale? Io vivo all'estero, ho conosciuto nazionalità di tutto il mondo, ho lavorato a Londra, ho lavorato negli Stati Uniti, ho lavorato ad Abu Dhabi per la National Bank di Abu Dhabi, quindi ho lavorato con indiani, pakistani, europei di tutti i tipi, americani di tutti i tipi. C'erano sempre italiani e il più delle volte gli italiani invece riescono ad eccellere, perché gli italiani hanno una capacità di adattamento enorme che molti paesi e molte culture non hanno. Quindi quello che scrivi non mi trovi per nulla d'accordo. Invece l'italiano ha proprio una grande capacità di poter far carriera a livello internazionale, perché noi siamo passionali, a noi il lavoro non è qualcosa che non ci tocca, noi vogliamo far bene. Certo, non parlo dei nullafacenti, di quelli che non vogliono fare niente, non vogliono lavorare, perché quella gente lì, il problema non è l'Italia, il problema è il loro carattere, la loro impostazione ovviamente. Però Matteo, mi dispiace che tu abbia questa visione così negativa e generalizzata delle cose. Ti assicuro che se facessi un'esperienza all'estero e lavorassi in aziende estere dove ci sono italiani, ti ricrederesti immediatamente di questa cosa. Ago dice, l'economia se non riesce a influenzare i consumatori si adegua. Tutti mettono i soldi sotto il materasso, benissimo, usciranno materassi, 3 milioni di modelli di materasso e si spenderanno soldi per quello, o si tassa. Esatto, un altro modo, più facile di far uscire 3 milioni di modelli di materassi. Allora, mamma mia quante chiacchierate oggi ragazzi. Ludovico dice, è una cosa in cui credo, done is better than perfect. Ed ecco il concetto di ogni volta che ci diamo come scusa la perfezione, no? E quindi rimandiamo l'azione di fare, di fare le cose. Fare le cose è meglio che pensare e aspettare di farle in maniera eccellente, perché tanto siamo esseri umani, le cose in maniera eccellente non le faremo mai. Quindi tanto vale farle. Daniele dice, che ne pensi di Mr. Rip? E Giorgio non lo conosco, quindi non so, non so cosa, non c'ho nessun pensiero, perché non posso pensare qualcosa di una persona che non conosco. Spero ci sarà occasione di incontrarci, di scambiare una chiacchiera, di conoscerci. Sono confidente che ci sarà e mi sembra una persona seria, mi sembra una persona che porti avanti le sue cose e quindi spero di conoscerlo e a quel punto Daniele ti potrò rispondere. A me non piace mai esprimere giudizi su persone, idee su persone che non conosco, perché sarebbe una sensazione, ma purtroppo mi è capitato nella vita di avere sensazioni estremamente positive di persone che poi ho conosciuto e mi hanno invece molto deluso, come valori, come persone, e viceversa è il contrario, di avere percezioni, una sensazione non positiva, invece poi ho conosciuto erano persone squisite, splendide. Quindi ho imparato a non avere aspettative. Questo è il mio mantra di vita, non avere aspettative. Giacomo dice, Marco, se ti proponessero di fare il presidente del Consiglio in Italia cosa faresti? Giacomo, ma vedi, uno pensa che stare in politica, lavorare in politica non sia una professionalità. Io credo, io non mi improvviserei mai, direi di no, perché mi sentirei fuori luogo in un ambiente che non conosco, con competenze che non ho. Quindi nessuno dovrebbe andare a fare un lavoro, ancor di più il politico che è in mano, ha anche le sue decisioni, hanno anche dei risvolti enormi per il paese. Nessuno dovrebbe improvvisarsi, ci dovresti andare se quella è la tua carriera, soprattutto se quella è la tua vocazione. Perciò ti direi assolutamente no, farei malissimo perché non è la mia materia, banalmente, no? Ciao Marco, ho trovato la casa dei miei sogni ed ho anche il capitale per acquistarla. Il fatto è che è tutto investito sui mercati, io non ce la faccio a disinvestire per comprare casa. Guarda Vittorio, non ti posso dare nessuna risposta, veramente, e soprattutto mi sento di non dartela, perché non ti conosco. Perché già mi scrivi una cosa, no? Hai trovato la casa dei tuoi sogni. Per esempio, per come sono fatto io, la casa dei miei sogni non esiste. Perché? Perché io non nemmeno so qual è il posto dei miei sogni, non so qual è la città dei miei sogni, non so qual è il paese dei miei sogni, quindi come faccio ad averci la casa dei miei sogni. L'unica cosa su cui ti invito di riflettere è, quando dici la casa dei miei sogni, che cosa intendi, cosa appiccichi, attacchi a quel concetto, perché quella casa realizzerebbe i tuoi sogni. Se per te è così importante, metti sempre sul piatto della bilancia cosa è più importante per te. Fai attenzione però a non confondere piacere con felicità. E quindi magari la casa dei tuoi sogni ti può dare piacere nel breve termine, ma non ti potrebbe non dare felicità nel lungo termine. L'unica cosa che mi sento di dirti è ragiona su questo. Sto leggendo ragazzi, scusatemi se sono in silenzio. Intanto vi ringrazio Perché insomma, qualcuno mi scrive che i miei video non sono tutti uguali e sono utili. Ragazzi, una cosa che ho imparato a stare così tanto tempo sui social è proprio stata quella di non riuscire ad accontentare tutti. Non puoi accontentare tutti, perché siamo così diversi. Quindi è giusto ed è normale e bisogna accettare che qualcuno trovi utili dei contenuti e qualcun altro a parità di contenuto li trovi completamente inutili. Va benissimo e la mia risposta è sempre quella che ho dato prima al collega. Impiega il tuo tempo, guarda qualcos'altro, guarda ciò che senti ti sia utile. Bene, bravo, mi piace quando parlate tra di voi, vi scambiate opinioni, idee, eccetera. È il bello della community, lo diciamo sempre, si cresce in questo modo. Allora ragazzi, cavolo, già è passata un'oretta. Allora, dai, facciamoci la seconda parte della diretta e così introduco un nuovo concetto. Meno filosofia e più domande specifiche sul trading. Perché? La diretta del martedì e giovedì è su finanza personale, quindi non su questioni tecniche. Le dirette di lunedì, mercoledì e venerdì sono quelle dedicate a investimenti di breve e di lungo termine. Marco, credo Marco, quindi, sono quasi dieci anni che sto su YouTube, ho fatto più di 3000 video. Veramente ho parlato di tutto, ho detto tutto quello che dovevo dire. Quindi ci sta anche diversificare un po' con i contenuti, altrimenti poi mi annoio pure io. E se mi annoio io, finisce il gioco. Perché il giorno che non mi vedrete più su YouTube è perché non mi piace più, non sono più stimolato, non sono più motivato da quello che faccio. Gli Stati Uniti con 34 trilion dollar di debito pubblico non si possono considerare uno stato fallito? No, no, perché il debito non è il male del mondo necessariamente, il debito è il male del mondo quando non viene investito per generare crescita economica, ok? Il debito quando è pericoloso? Il debito che abbiamo in Italia è molto più pericoloso del debito che c'hanno negli Stati Uniti, perché il debito che abbiamo in Italia lo utilizziamo per pagare spesa per interessi, spese pubbliche folli, non investiamo in innovazione, non investiamo in crescita economica, in infrastrutture, quindi se permetti sono molto più preoccupato del nostro paese che del fallimento degli Stati Uniti, che potrebbe pure avvenire, perché io non sto dicendo che, Marco ha detto che non avverrà il fallimento, ti sto dicendo che non è un numero di debito che determina la possibilità di fallimento di un paese. Grazie. Bene, ragazzi. Non so se continuare a rispondere alle domande o mettermi... Grazie. Bene, bene. Ragazzi, ma perché ci avete questa fissa delle guerre mondiali? Ragazzi, se scoppia una guerra mondiale, chi è investito a lungo termine che... Ragazzi, se scoppia una guerra mondiale, una guerra atomica, probabilmente l'ultimo dei nostri problemi è pensare a che cosa succederà ai nostri investimenti. Non credete? Cioè, quando pensate a queste catastrofi naturali, no? Queste catastrofi enormi che nessuno si augura avverranno mai, e finora non sono mai avvenute, per fortuna di Dio, non in queste entità almeno, no? Ma se dovessero avvenire, se dovessero servire i bunker anti-atomici per salvarsi, se le radiazioni sulla Terra... Ma che vi importa degli investimenti? Ci sarebbero più problemi, non dovremmo più pensare agli investimenti, perché dovremmo pensare alla sopravvivenza. Quindi, di che parliamo? No. Secondo te, come me, la maggior parte dei libri finanziari provengono dagli Stati Uniti, almeno così mi pare. Cosa fanno meglio degli europei? Due cose, li direi. Hanno cominciato prima, in ambito finanziario, e gli americani hanno una grande capacità di teorizzare anche delle ovvietà, ma teorizzarle. Diciamo che dal punto di vista il paese è estremamente finanziarizzato, quindi quella è una materia estremamente importante, una materia dove girano tanti soldi, e dove girano tanti soldi, girano tanti consulenti, girano tante professionalità. Quindi è semplicemente questo il motivo. Allora. 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 Allora ragazzi, dai, facciamoci quest'altra parte. Perché la sapete una cosa? La ricchezza è ciò che non spendi. Eppure quante volte abbiamo pensato che per essere ricchi dovevamo mostrare a tutti quanto denaro possedevamo. Bene, ti voglio spiegare in questo video perché sembrare povero è in realtà la chiave per costruire la vera ricchezza. E perché l'immagine comune di ricchezza che ci hanno installato nella testa è completamente sbagliata. Del resto, ragazzi, ne abbiamo tanti di esempi. Abbiamo esempi, se prendiamo Warren Buffett, se prendiamo Bill Gates, sono i primi due che mi vengono in mente, no? Due degli uomini più ricchi al mondo che potrebbero vivere in maniera lussuosa e comprare qualsiasi cosa desiderano, beh, loro ancora vivono nella stessa casa e con la stessa macchina che hanno comprato tanti e tanti anni fa. Invece tantissimi personaggi seguono la ricchezza comprando auto di lusso, ville, megaville, case dei sogni e la verità è che probabilmente questa è la falsa ricchezza. La falsa ricchezza è la ricchezza visibile, la vera ricchezza è quella invisibile. Infatti tantissime persone che sono veramente, finanziariamente ricche e stabile, conoscono bene e sanno bene che il segreto è quello di apparire assolutamente normali e quindi estremamente modesti, a volte anche quasi poveri. Perché se c'è una cosa che ho imparato e che adoro è che i ricchi non devono dimostrare a nessuno di essere ricchi. Cominciamo col dire una cosa. Cosa vuol dire ricchi per me in questo video? Ricchi per me vuol dire avere il pieno controllo delle proprie finanze. vuol dire sapere esattamente quello che ti entra in termini di redditi e quello che ti esce in termini di spese. Ovviamente avere un tasso di risparmio, ovviamente sapere come quel tasso di risparmio investirlo per far crescere ancora di più il capitale. Questo per me vuol dire ricchezza. Ricchezza vuol dire controllo e consapevolezza della propria situazione finanziaria. Ricchezza non è per me almeno un conto in banca o un numero. Non può essere riconducibile a quello. Eppure viviamo in una società, oggi più che mai probabilmente, in una cultura direi, che fa ruotare tutto quanto intorno a cosa posso mettere all'interno del mio reel su TikTok o all'interno del mio post su Instagram per far vedere che guadagno bene, che sono un benestante, per far vedere che tipo di successo ho raggiunto. Tra l'altro il più delle volte ovviamente quelle foto e quei video sono assolutamente finti. Ne abbiamo tantissimi esempi con gente, ragazzi giovanissimi che viaggiano in Lamborghini, che viaggiano in aerei privati, che poi magari li hanno noleggiati per farci la foto sopra solo per apparire, no? Per farsi vedere. Perché la verità è che tutto quello che ci hanno raccontato le pubblicità, la televisione sulla ricchezza è assolutamente una bugia. Lo dicevo prima, la ricchezza finta è quella visibile, quella che ci sbattono tutti i giorni sotto gli occhi nei film, nei social media. E è una ricchezza creata, fittizia, creata consapevolmente dai media e dall'industria dell'intrattenimento. Ci sono tantissimi programmi televisivi, ragazzi, ogni tanto quando apro Netflix o quando vedo qualche trasmissione che veramente promuovono uno stile di vita che è estremamente materialistico, inutilmente materialistico. E c'è sempre un esempio che mi viene in mente parlando di materialismo, perché spesso mi guardo allo specchio e mi dico, cavolo, il mio conto economico è migliore del conto economico di Nicolas Cage. Parliamo di un attore potenzialmente fantastico, attore che ha vinto premio Oscar, un attore che ha guadagnato tra il 95 e il 2010 qualcosa come 150 milioni di dollari. Insomma, ho detto prima che la ricchezza non è un numero, 150 milioni di dollari fanno di te una persona potenzialmente ricco. Però, cosa ha fatto il nostro Nicolas Cage? Ci sono articoli e video, c'è una bella intervista fatta su 60 Minutes, la trovate online su YouTube di Nicolas Cage, dove ammette di aver sperperato tutto quello che ha guadagnato. Quindi il suo stile di vita, le sue uscite erano più alte delle sue entrate. Come al solito, non conta quanto guadagni, conta quanto spendi. E qui torniamo al concetto di prima. La ricchezza è ciò che non spendi, è ciò che non si vede, è ciò che fai lavorare per te, non è quello che sbatti in faccia agli altri. Per tornare a Nicolas Cage, in questa intervista di cui vi parlavo, ammette di aver comprato castelli, case infestate in giro per il mondo, aver accumulato roba che non serviva a nulla, beni, e ha dovuto affrontare enormi problematiche finanziarie, aveva un debito di 6 milioni di dollari, stava per finire quasi in bancarotta, si è salvato solo perché, per un momento della sua vita, ha praticamente lavorato e detto di sì a qualsiasi film. Spesso, se andrà a vedere gli ultimi film di Nicolas Cage, e mi dispiace dirlo perché mi piace come attore, ma la maggior parte dei suoi film hanno voti pessimi, perché ha dovuto dire di sì per lavorare a film mediocri, tra l'altro con un cachet basso, e quindi ne ha dovuti far tanti, ha dovuto lavorare tanto, e solo il duro lavoro, come al solito, gli ha permesso di uscire dalla sua citazione. Vedete perché generare, ottenere denaro e mantenere il denaro sono due abilità completamente diverse, ma sono entrambe cruciali, perché di certo non potete mantenere un denaro se non ce l'avete, quindi non potete mantenere un denaro se non avete prima creato l'abilità di ottenere, generare denaro, no? E qui torniamo al concetto di prima, l'importanza di allenarsi a sembrare povero. Adesso la dico in maniera forte, ma per quanto mi riguarda vuol dire vivere al di sotto delle proprie possibilità. Perché? Vedete, la verità è che uno stile di vita lussuoso, pieno di oggetti che compriamo, alla fine non è sostenibile e può portare solo al fallimento finanziario, perché cercare di sembrare ricchi porta all'accumulo di passività, di debiti che vengono fatti e che dovranno essere restituiti. E quindi, soprattutto quando forziamo, quanti amici avete voi intorno che sembra che chissà che stipendi guadagnino, sembra che chissà quale cifra abbiano da parte nel loro conto, se guardate le cose che hanno, l'orologio che hanno, come vestono, la macchina che hanno, la casa in affitto che hanno, eppure poi se andate un po' a indagare meglio sulle finanze, scoprite che stanno alla canna del gas. Ne conoscete? Io ne conosco, assolutamente. perché rimangono, sono persone che rimangono intrappolate in un loop, un ciclo di spese elevate e redditi che sono insufficienti a sostenere quelle spese. Quindi, se invece ci abituiamo a, scegliendolo non privandosi, scegliendo di vivere al di sotto delle nostre possibilità, di non far viaggiare il nostro stile di vita con i redditi che nella nostra vita dovrebbero aumentare mano a mano che cresciamo e senza far aumentare di troppo lo stile di vita. Fermo restando che io sono il primo fautore che la vita è uno e va comunque goduta, ma va goduta con le cose che ci rendono davvero felici e non con le cose che qualcun altro ci ha detto che dobbiamo comprare, che dobbiamo fare o che dobbiamo mostrare per apparire felici. Essere felici e apparire felici sono due cose completamente diverse. Ce l'hanno fatto vedere molto bene celebrità. Me ne vengono due in mente. Mike Tyson, un pugile, sapete che io adoro il pugilato, nella sua carriera ha guadagnato quasi mezzo miliardo, ok? Più di 400 milioni di dollari durante la sua carriera da pugile. Eppure nel 2003 ha dichiarato bancarotta con un debito di 23 milioni. Si sta riprendendo adesso dalla bancarotta che aveva dichiarato. Michael Jackson, il re del pop, la persona che ha cambiato la musica e la concezione del creare video musicali, ha guadagnato cifre che inestimabili probabilmente, eppure anche lui ha vissuto una vita estremamente lussuosa con acquisti e spese completamente folli, il Neverland Ranch se ci pensate, gli oggetti d'arte che ha acquistato, i viaggi che ha fatto. Alla sua morte aveva 400 milioni di dollari debiti. Quindi, cosa voglio dire con questo video? Che non è quello che mostrate a determinare qual è la vostra situazione finanziaria, che dobbiamo cominciare a pensare che non dobbiamo dimostrare niente a nessuno e lo dice una persona che questi errori li ha fatti quando era ragazzo. Io non sono un appassionato di motori ma quante volte vi ho raccontato dell'acquisto che ho fatto cash in contanti di una macchina a due posti, una Mazda MX5, bella, piccola, potente, l'ho comprata solo per far vedere che potevo comprarla in contanti a quell'età quando ero così piccolo, senza l'aiuto dei soldi dei miei genitori o dei soldi che avevo preso da qualche eredità, no, i soldi miei sudati e li ho spesi per quella cosa, buttati, perché nemmeno mi faceva felice, l'ho fatto per apparire. Credo che sia questa la questione su cui dobbiamo riflettere, è questo che dobbiamo cambiare, è questo, sono le piccole decisioni consapevoli che prendiamo durante il percorso della nostra vita che poi portano a risultati grandi e che portano soprattutto alla sostenibilità e la robustezza robustezza della nostra situazione finanziaria, perché vedete ci sono un sacco di studi, guardate, ve ne faccio vedere alcuni. Aspettate che condivido lo schermo, eh. ci sono tantissimi studi, questo è del 2019, Capitalists in the 21st Century, che ha analizzato tantissimi dati dei contribuenti americani per determinare chi dominava lo 0,1% delle persone più ricche. Quindi, non è uno studio fatto sui mega ultramiliardari, questa è un'altra deformazione della nostra società, no? Pensare ai ricchi come Elon Musk, come Jeff Bezos, no ragazzi, questi non sono ricchi, questi sono mega ultra ricchi, sono lo 0,01% della popolazione. Invece, questo studio, è interessante perché lo potete poi vedere e andarvelo a leggere, anzi, vi consiglio di farlo, ha studiato 140.000 americani che guadagnano più di un milione e mezzo di dollari l'anno. E lo sapete che cosa è uscito fuori? che l'americano tipico di questo studio è un proprietario di una attività regionale, non di una multinazionale, un concessionario di automobili, un distributore di domande e che il denaro non è un percorso affidabile verso la felicità. Su questo c'è un altro studio davvero davvero interessante dell'Università della Pennsylvania, ha studiato più di 30.000 adulti e che è uno degli studi più grandi. E questo studio è interessante ragazzi perché ha sfatato il mito secondo cui non vi è alcun effetto del denaro sulla felicità superati 75.000 dollari, no? spesso si dice di questa cifra perché si cita questo studio. Beh, questo studio invece ha detto che esiste una legge sui rendimenti decrescenti del denaro. Quindi quello che è uscito fuori è che gli effetti del denaro si tendono a stabilizzarsi e quindi è necessario continuare a raddoppiare il proprio reddito per ottenere lo stesso incremento di felicità. Quindi vuol dire che la relazione non è affatto diretta tra denaro e felicità. E poi ancora uno studio della Harvard Business School che di nuovo ha riscontrato un aumento della felicità che si manifesta quando il patrimonio netto delle persone supera gli 8 milioni. Ma l'effetto è piccolo effettivamente. Cioè un patrimonio netto di 8 milioni di dollari offre un aumento di felicità che è circa la metà dell'aumento di felicità derivante per esempio dall'essere sposati. E lo so che può sembrare una banalità ma vedete io sono un appassionato di big data dello studio dell'analisi dei grandi dati perché nei grandi dati a volte ci sono scoperte sconcertanti e a volte lo studio dei grandi dati ci da semplicemente conferma di cose estremamente banali. e questa banalità è sicuramente il caso della felicità perché da questo studio quello che emerge è che molti di noi non fanno le cose che li rendono felici e cadiamo un po' nelle trappole che invece le spese lo shopping compulsivo accumulare beni mostrare quello che abbiamo queste sono cose che non sono sostenibili nel tempo non ci renderanno felici nel tempo per il lungo tempo e quindi in questo studio più di 3 milioni di dati quindi uno studio veramente attendibili lo sapete che cosa esce fuori da questo studio che le persone più felici fanno attività come esercizio fisico giardinaggio e il sesso e quindi le persone ottengono un grande aumento di felicità nello stare nel passare il tempo con il proprio partner nel passare il tempo con i propri amici e c'è un altro studio molto carino si chiama mappiness la fusione delle due parole mapping e happiness che ha scoperto chiedendo su 27 attività ricreative diverse pensate i social media il consumo di contenuti di social media sono all'ultimo posto per quanto riguarda la felicità che portano e invece di nuovo ha rivelato questo studio anche che le persone fondamentalmente stavano meglio quando riusci trascorrevano più tempo a socializzare e riferivano un maggiore benessere soggettivo nel non utilizzare questi media quindi di nuovo ragazzi qui la parola magica è consapevolezza non fare qualcosa semplicemente perché la società ci ha detto che sia giusto o perché i social ci stanno uniformando a quel tipo di comportamento prendete il controllo e poi magari scegliete anche in maniera consapevole di alcune cose di volerle fare perché le volete fare io sono ammetto di essere colpevole io quando viaggio voglio viaggiare comodo per me il viaggio stesso l'andare a scoprire nuove culture nuovi paesi in quel viaggio è importante l'inizio del viaggio no il voglio viaggiare su aerei comodi voglio scegliere degli hotel che sono comodi che mi fanno star perché quello aggiunge felicità ad un'attività che già mi piace so in maniera consapevole che potrei fare lo stesso viaggio spendendo un terzo di quello che spendo ma non lo faccio perché lo devo far vedere a qualcuno o non lo faccio perché lo devo perché me l'ha detto la pubblicità lo faccio perché mi rende felice e lo so perché quando non l'ho fatto mi sentivo che mancava qualcosa quello per me è decidere in maniera consapevole di fare quello che finanziariamente è una stupidaggine quella è una stupidaggine finanziaria è un errore finanziario ma siamo esseri umani e come esseri umani dobbiamo anche accettare le nostre debolezze i nostri errori soprattutto se quegli errori ci fanno star bene bene ragazzi dai questo di questo volevo parlarvi io tra pochissimo ho il webinar c'è un webinar stasera molto interessante quindi vi rilascio al webinar ok ok bene ragazzi dai sono contento oggi abbiamo parlato tanto ci vediamo domani diretta alle 13.30 domani si parla di finanza di mercati finanziari quindi ricordatevi sempre martedì e giovedì la materia è finanza personale lunedì mercoledì e venerdì alle 13.30 la materia è più tecnica investimenti macroeconomia e finanza tutte quante le dirette le trovate sul mio secondo canale Marco Casario extra e invece su questo video pubblico un po' le clip più corte in modo che per chi va un po' più di fretta e non vuole vedersi un'ora e mezza un'ora e quaranta di diretta può comunque riuscire a usufruire del contenuto ragazzi grazie mille per l'attenzione ci vediamo al webinar se venite di là trovate il link sul canale telegram quindi sul mio canale telegram è qui sotto in descrizione il canale c'ho solo un canale telegram vi raccomando ragazzi ci sono un sacco di falsi e di scammer non ci cadete ci vediamo tra mezz'ora 19.30 a tra pochissimo ciao 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 ciao